Si chiama Milano Plastic Free l'ambizioso progetto di Palazzo Marino che punta a trasformare il capoluogo lombardo come in uno dei primi comuni in Italia libero dalla plastica. Un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie anche alla collaborazione degli esercizi commerciali che potranno decidere se liberarsi dall'utilizzo del plastica e usa e getta come bicchieri, piatti, posate e contenitori per sostituirle con oggetti immateriali amici dell'ambiente. Inizialmente saranno circa 200 esercizi commerciali coinvolti partendo dai quartieri Niguarda e Isola. Saranno dei volontari grazie a un'attività di porta a porta a raccogliere le adesioni volontarie al progetto e proporranno ai locali delle soluzioni alternative alla plastica. L'invito ad aderire all'iniziativa è rivolto a tutti i commercianti della città. La sperimentazione è più che mai necessaria in vista dell'applicazione della direttiva dell'Unione Europea che dal 2021 vieterà l'utilizzo delle plastiche usa e getta non degradabili. Milano, secondo i dati forniti da AMSA, ogni anno produce circa 35.000 tonnellate di plastica, superando il 60% per quanto riguarda la raccolta differenziata. In città i quantitativi di plastica e metallo raccolti porta a porta sono passati da una media di 186 a 207 tonnellate alla settimana, con un incremento percentuale dell'11%. Fuori città a Muggiano da marzo ci sarà anche un nuovo impianto di trattamento della plastica.